ciao a tutti questo è il primo video di una nuova serie che tratta del tema hot molto hot molto molto hot dell'orgasmo nel tantra e forse molti video rimarranno un po delusi anche qua perché quando si va a scoprire quando si porta a luce degli argomenti si scopre anche che una cosa vuol dire molto ha un significato in realtà molto diverso da quello che il nostro condizionamento da quello che la nostra cultura quella nostra coscienza collettiva ci ha tramandato quindi che cos'è l'orgasmo nella cultura popolare questo vado veloce è tendenzialmente un momento di grandissimo esplosivo grandissimo piacere che a volte si identifica appunto con la eiaculazione nell'uomo e con un grande senso di abbandono e di piacere per la donna con a volte la fuoriuscita di liquidi o meno ecco nel tantra le cose stanno molto diversamente il concetto di orgasmo è molto separato non è non coincide con l'atto sessuale ma è qualcosa di molto più esteso ed è qualcosa che ha una natura di per sé profondamente spirituale ed è qualcosa che si acquisisce che si impara non è naturale non viene cioè viene naturalmente ma si può anche sviluppare in maniera consapevole esattamente come suonare la chitarra come imparare a cantare come imparare uno sport una disciplina e quant'altro quindi non non è sicuramente una scienza ma si avvicina più a un'arte ed è l'arte dell'orgasmo nel tantra quindi è una pratica un qualcosa a cui ci si arriva piano piano ed una qualcosa che ha a che vedere molto più con lo spirito che con il corpo infatti l'orgasmo è di per sé uno stato di coscienza c'è un momento un fotogramma in cui la nostra coscienza la percezione di noi stessi e di tutto ciò che ci circonda è abbastanza ampliata è abbastanza estesa in cui le difese per effetto dell'energia sessuale del piacere le difese dalla nostra identità sentirci quello che siamo secondo quello il nostro nome il nostro anno tutte queste cose proprio scemano noi rimaniamo nella nostra essenza e siamo espansi e abbiamo facilità a commettersi con il tutto e quindi questo vuol dire anche e questa forza il perno di quello che vado dicendo in questo video è che l'orgasmo non è di per sé una cosa sessuale l'orgasmo non è di per sé una cosa che necessita un partner è uno stato psicofisico e di coscienza che può essere provato in tastissime circostanze nel momento in cui si ha questo grande desiderio e grande piacere un momento di grande piacere di connessione profonda con la natura con la vita con l'essenza con la fonte con la vita in sé può essere un momento orgasmico quindi nel tantra l'orgasmo è un momento di grande piacere in cui la mia identità in qualche modo scema si dissolve e grazie al piacere noi entro in connessione con tutte queste cose quindi questo esistono in tutte le pratiche spirituali attraverso la meditazione attraverso la preghiera attraverso l'esercizio fisico ecco nel tantra esiste anche la componente in cui si arriva a questo stato attraverso il piacere attraverso quindi uno stato di dissolvimento della propria identità attraverso il piacere e non necessita di un partner non necessita di sessualità non necessita di di niente se uno ha certe caratteristiche in ballo e quindi ora nel prossimo video parlerò di cosa serve per avere un a parlare di orgasmo in senso tantrico e in senso spirituale